Bagheria come specchio del paese. Nel piccolo comune siciliano qualche giorno fa è uscita la foto del sindaco uscente e ricandidato Filippo Tripoli di Italia Viva, mentre pranzava allegro con Carmelo Fricano, detto Mezzochilo, un noto imprenditore bagherese arrestato il 13 settembre nell'operazione della DDA di Palermo. È considerato prestanome del boss Leonardo Greco, accusato di associazione mafiosa e di estorsione, secondo le indagini dei carabinieri di Bagheria, Mezzochilo era al servizio del gruppo mafioso. Secondo la procura, Fricano era a completa disposizione del capomandamento, partecipava a riunioni riservate del clan, sosteneva economicamente i detenuti e i familiari e all'occorrenza si intrometteva nelle regole dettate dal suo dalizio mafioso e commercianti. Il sindaco si difende dicendo che al tempo Fricano era incensurato, in compenso ieri, durante il confronto con gli altri candidati, si è offeso perché un suo avversario ha osato fare domande sulla questione. A proposito di Bagheria, il sesto candidato è Salvatore Baiardo, l'uomo che ha scontato quattro anni di carcere per favoreggiamento e riciclaggio di denaro a favore dei fratelli Graviano. Baiardo è stato da poco condannato anche per calunnia ai danni di Massimo Giletti, ex conduttore di Non è l'Arena, su La Sette, per averlo accusato di aver reso false dichiarazioni al pubblico ministero riguardo all'esistenza della presunta foto e per favoreggiamento nei confronti di Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Ora vorrebbe fare il sindaco con un certo partito dei poveri, si chiama. I poveri evidentemente siamo noi che osserviamo un paese in cui nemmeno una condanna per mafia spinge le persone a provare un minimo di vergogna.